E' stato inaugurato presso la chiesa di San Rocco a Sala Consilina il corso di preghiera per fidanzati, organizzato dalla Forania di Teggiano Sala Consilina, una vera e propria scuola di preghiera che intende aiutare giovani a vivere nella fede il tempo del fidanzamento, attraverso una scoperta ed un conseguente confronto con la parola di Dio. Il corso, curato da Don Nicola Russo da ottobre a giugno, si tiene una volta al mese di sabato alle ore 20. Si tratta per molti fidanzati di una scoperta, in quanto, oltre alla diffusa ignoranza della scrittura, molti di questi giovani pensano che nell'esperienza del fidanzamento, ma anche del matrimonio, Dio è uno che non c'entra, o tutt'al più c'entra poco. Confrontandosi con la parola di Dio, essi potranno invece scoprire che autore della loro storia d'amore è proprio il Signore. Sarà come vedere un volto nuovo di Dio, il quale non è strano alla loro storia, ma ne è l'ideatore affettuoso ed attento, interessato più di tutti alla riuscita del loro amore. Da ciò dovrebbe conseguire il desiderio di coltivare l'amicizia con il Signore attraverso l'arte della preghiera. La meditazione di quest'anno si concentra sul libro di Tobia, un invito a riconoscere la provvidenza quotidiana di un Dio compassionevole. È naturale che coloro i quali sono stati chiamati ad animare questo corso di preghiera, dovranno confidare pienamente in Dio e tener sempre presente che nelle iniziative pastorali i ritmi sono quelli del bosco, lenti, silenziosi, ma tali da incidere profondamente.